Siamo con il professor Francesco Riva, che fa parte del nostro Comitato Scientifico Sanità e Informazione e membro permanente della Consulta Europea per la Sicurezza Alimentare. Quali sono le prospettive di collaborazione, sia di programma che strategiche, con la consulta stessa? Sicuramente l'alimentazione è la base di tutto. Io rappresento anche questo progetto, assieme al dottor Marco Ancora, Italia-Europa. Abbiamo già avuto due incontri importanti, uno con la Danimarca, l'altro l'abbiamo avuto con il Portogale e con la Finlandia. Quindi sicuramente cultura e benessere sono la base di tutto. Noi, sia Comitato e Informazione, vorremmo anche lanciare questo progetto di education, utilizzando le tecnologie avanzate, facendo una massa critica. L'idea è proprio quella di fare una massa critica, unire tutte le realtà europee, chi produce e chi le mette in atto, perché la medicina non è solo fare un prodotto, ma anche dare una salute. Quindi in questo senso noi vogliamo formare i medici e i dentisti a migliorarsi.